Grazie mille, la verità è che siamo troppo felici per noi come società è la prima volta che vinciamo un scudetto anche con l'Under 17, quindi siamo tutti felici Che cosa c'è dietro questo scudetto? Questa è una squadra che ha sempre partecipato alle finali nazionali lo scorso anno però, ricordiamo, ha chiuso sesta in Under 17 Sì, è una squadra che ha fatto un percorso benissimo fino qua e finalmente siamo riusciti a chiudere questo percorso con questo campionato Dal tuo punto di vista, dal punto di vista personale, che cosa senti, che cosa provi dopo questo titolo? Tra l'altro tu hai giocato col Malo, adesso sei nei quadri tecnici, insomma sei particolarmente legato a questo paese Sì, sì, trovo un gruppo decente che le piace allenare, che le piace lavorare quindi c'è un futuro enorme con il ragazzino per continuare a lavorare Tre ragazzi all'interno dell'All Star Team, peraltro Sì, sono troppo felice per tutti, anche per loro tre, anche per tutte le squadre Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!